ben ritrovati di nuovo su review you mi trovo nella mia home gym e come promesso vi vado a recensire un altro articolo da palestra si tratta di un rullo di schiuma acquistato su amazon ad un prezzo di 24 euro color nero come vedete vi lascio il link in descrizione qui sotto perché trovate diverse misure dai 30 45 90 centimetri e anche diversi colori tra cui verde rosa blu insomma potete sbizzarrirvi 45 centimetri come il mio caso e secondo me la misura ideale per andare a strecciare diciamo la schiena i polpacci le gambe ma potete anche fare pilates di yoga insomma vi faccio vedere da vicino come fatto ci sono questi piccoli esagoni che diciamo quando schiacciate il ruolo in generale vanno un attimo a schiacciarsi e ad ammortizzare il nostro peso devo dire che il giusto rullo è quello che non è troppo duro ma neanche troppo morbido perché sennò appunto non va ad effettuare il proprio lavoro e questo qua non via di mezzo perfetta perché guardate non va comunque a schiacciarsi è abbastanza rigido ma neanche sprofonda quindi in questi mesi che lo sto utilizzando è ancora intatto poi il diametro è di circa diciamo meno della mia mano quindi non è neanche troppo ingombrante e secondo me va benissimo link in descrizione del prodotto mi raccomando supportate il canale iscrivendovi e lasciando un like alla prossima review